Questo è un momento assolutamente atteso e anche molto emozionante perché Apecchio riesce con questo evento e direi anche con uno sforzo notevole, ma anche con l'impegno e la capacità delle persone che hanno contribuito a realizzare questo evento, a collocarsi a pieno titolo nel circuito delle mostre d'arte, quindi in un settore che riesce ad esaltare al massimo il nostro Palazzo Ubaldini, che trova finalmente una collocazione ed una destinazione definitiva, quella che le compete. Questa mostra rappresenta la prima mostra d'arte antica che si terrà nel Comune di Apecchio, ma è anche la prima mostra che si terrà sulla famiglia Ubaldini e inoltre avremo l'onore di ospitare opere inedite da collezioni private, ma anche il primato di poter vedere esposti e raffrontati la lunetta del Palazzo Ducale di Urbino con i medaglioni di mercatello del Museo di San Francesco. Quindi diciamo che questa mostra rappresenta un po' un punto su quello che sono stati gli studi dedicati e le ricerche dedicate a questa tematica e vuole segnare anche un inizio per il futuro, per i nuovi studi. Nel 12 giugno inaugureremo la mostra Ubaldini, signori degli Appennini, come diceva il sindaco, nelle sale espositive del Palazzo Ubaldini, che sono state allestite con delle bacheche, dei pannelli, un allestimento tutto nuovo che lo renderà una sala espositiva a tutti gli effetti. È la prima mostra d'arte sponsorizzata dalla Regione Marche con la collaborazione della soprintendenza, che verrà ospitata a Palazzo Ubaldini in Apecchio. Oltre a tutto il lavoro che è stato fatto per l'allestimento, per i prestiti delle opere, il risultato di cui vado più orgogliosa è la creazione di un gruppo di lavoro molto variegato e che ha collaborato in questi due anni con intensità e passione.